coscienze superiori domanda chi sono i maestri del karma guida i maestri del karma sono coscienze superiori all'incarnando esse si occupano di preparare le limitazioni di coscienza che sono energie nel superamento delle quali è incentrato il valore evolutivo dell'incarnazione queste limitazioni sono organizzate nei corpi superiori in modo da necessitare di una minima sollecitazione esterna per emergere nel piano fisico gli stimoli provenienti dall'esterno sono forniti tramite la scelta dei genitori che avviene attraverso i codici affini e da altre condizioni incarnative di natura sociale se le limitazioni rimanessero assopite nel profondo della vostra anima non potreste divenirne consapevoli e non essendone consapevoli non potreste superarle i maestri del karma non preparano tutte le limitazioni in maniera che emergano in superficie alcune limitazioni sono mantenute allo stato latente perché su di esse si avrà modo di lavorare in incarnazione future o qualora il progetto vitale pianificato per quella incarnazione sia stato completamente assolto nel progetto vitale tutto questo è osservato dai maestri del karma ed opportunamente preparato